Quasi un mese fa presi la drastica decisione di iniziare a costruire il Colosseo all'interno del mio mondo Minecraft Survival Stagione 2, e mentre l'ho costruito ho fatto in parallelo tantissimi altri progetti, soprattutto il villaggio natalizio, e potete riprendervi tutti i video sul canale se non li avete visti. Ma oggi finalmente l'abbiamo finito e mi ha richiesto s***a blocchi. Non voglio rubarti ulteriore tempo perché questo è un episodio XXL e so che vi stanno piacendo molto, come al solito ti invito a lasciare like e iscriverti se ancora non l'hai fatto, e io ti auguro una buona visione. Let's go! Ragazzi, holy cow man, come direbbe Minecraft Java Edition, stasera ultimo episodio, in assoluto per quanto riguarda il Colosseo, ve lo posso garantire perché dobbiamo mettere le ultime cose e finalmente è completo. Nello specifico mi manca fare una cosa particolare che è la farm di pecore. Ho bisogno di fare la farm di pecore per tanti motivi, ma nello specifico per la lana. Poi forse la renderò anche una farm di carne, ma per il momento mi serve una farm di lana. Perché c'è un creeper davanti a me? No, mi sa che esplode però. Non è esploso! Non è esploso! Iniziamo veramente bene questo episodio. Ah, è ovviamente il cappello natalizio ragazzi, perché siamo sotto Natale. Oggi è il 20 dicembre. Riprendiamoci un attimo perché sono successe delle cose folli, ok? Veramente folli. È un trenino di livello 17 su Twitch per farvi capire la situazione. Abbiamo fatto Natale in anticipo praticamente. Tra l'altro in un posto bellissimo perché siamo nel villaggio natalizio. Stavo per farvi vedere le cose che abbiamo fatto l'altra volta, la casa di marzapane o di pan di zenzero, l'albero di Natale che dobbiamo decorare, il fatto che ho iniziato un po' a mettere uno stile qui per darvi un'idea di quello che avevo in mente e sono successe delle cose folli. Comunque ragazzuoli, tutta questa lana mi serve nello specifico qui, perché devo costruire delle colonne con la lana rossa che arrivano fino a qui sopra. Però ho un po' di lana, non ho tanta lana rossa e sicuramente ho bisogno di fare una farm di pecore. Quindi mi è venuta la geniale idea di prendere un angolo del nostro villaggio natalizio, fare una pecora gigante e dentro a questa pecora gigante ci dobbiamo mettere la farm. E poi mettiamo un cappellino natalizio alla pecora. Clean! Stiamo spaccando, Micol, stiamo spaccando. Dopo ve lo faccio vedere bene il Colosseo, perché magari non tutti si sono riusciti a vedere le live notturne, non tutti sono riusciti a vedersi i vari progressi qua e là, però prima dobbiamo portarci avanti. Allora, per quanto riguarda la pecora, secondo me si potrebbe utilizzare la concrete oppure si potrebbe utilizzare la lana per fare la farm. Io la vorrei fare o in quest'angolo qui, dove c'è la pecorella, che tra l'altro ho portato giù assieme ad altre due, tre pecorelle, ok? Fortunatamente ne ho lasciate un po' in giro, anche se molte chi ha visto gli scorsi episodi sa di cosa sto parlando. La vorrei fare o qua o qui, però la farei più nell'angolo. La facciamo con la lana o la facciamo con la concrete? Lascio a voi la scelta, ragazzi. Io onestamente sono più per utilizzare la concrete perché l'abbiamo anche mezza utilizzata per fare appunto la casetta qui e ho scoperto che dentro la casetta, visto che non ho ancora finito di illuminare né di mettere la brown concrete, spawnano i pipistrelli. Quindi una cosa che si potrebbe fare stasera, se usiamo la concrete, è prendere altra concrete, marrone magari. Anche perché in realtà per la pecora abbiamo bisogno della white concrete, abbiamo bisogno della concrete al massimo rosa, ma per il resto non ho bisogno particolari materiali. La neve, questa è neve, perché ho dei blocchi di neve nell'inventario? Devo andare a vedere se mi è avanzata della concrete nera e della concrete rosa, perché almeno mi diminuirebbe il tempo necessario per costruire la pecorellina. Concrete nera sono sicuro abbastanza, quasi al 100% di averla. Concrete nera? Ahah. Concrete rosa? Ok. Qui ho trovato un botto di concrete che non sapevo di avere, che avevo messo quella volta che ho avuto il coraggio di organizzare un pochino il mio bellissimo magazzino e a quanto pare ho dentro anche la brown concrete, però non ho la concrete rosa. Non si può fare la concrete rosa con quella rossa e con quella bianca, vero o no? Allora, cosa numero uno, andiamo a mettere subito la concrete marrone che manca, in modo da poter poi anche pensare all'illuminazione di questo posto. Ah, e ragazzi, il Colosseo per la prima volta nella mia vita è illuminato. Di solito faccio sempre le costruzioni non illuminate e questa sarà molto 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 illuminata. No, no, non ce la faccio comunque, non ci credo. Rip erotti. Anche la white terracotta potrebbe essere una buona combo. Sì, 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 è decisamente una buona combo per fare la pecora. Non so quanta white terracotta ho, ma quella è meno un problema perché so dover reperirla, almeno. La concrete è un po' noiosetta farla. Rosa in realtà? No, ma sapete che non è così noiosa? Allora, dovrei avere della sabbia in giro. La gravel spero di averla, perfetto. Il colorante lo facciamo. Guarda qua, ho fatto la concrete rosa. C'è questo magheggio che devo fare. Ok, ci farmiamo un po' di concrete rosa che mi serve per il naso. E poi una cosa che mi hanno appena fatto notare in chat che potremmo fare è la farm di stringhe. Anziché fare la farm di pecore si fa la farm di stringhe. Non mi ricordo più come si fa però. La farm di stringhe era particolare. Dovevi usare i tripwire hook, che sono quegli oggetti che quando passi con la redstone ti segnano il segnale e qualcos'altro. Al massimo ci guardiamo un tutorial al volo, ragazzi. Bene, iniziamo a fare la faccia della pecora. Quanto è grande una faccia di una pecora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocchi. Potrebbero essere interessanti, perché sto pensando poi alla faccia. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fatemi vedere una pecora di riferimento. Vieni qua. Ah, ci sono queste che... E adesso fai finta di... E adesso fai finta. Ti ho visto, eh. Ti ho visto che facevi le cose losche. Non si fa. Bravo, vieni qua, fatti osservare. 1, 2... Aspetta. Sì, sono 6 blocchi in faccia e 8 blocchi in conto. Mi fa ridere dover contare i blocchi di una pecora, raga. Ehi! Ti ho visto che non hai lasciato like al video e mi raccomando, ricordati di bere 2 litri d'acqua al giorno. Io ho appena finito i miei. È importante per la tua salute. Me lo ricordavo perché avevamo già fatto una pecora una volta e mi ricordo proprio di averla guardata come ho fatto in questo momento. Allora, vediamo se mi ricordo come si fa il design. Ok. Ci dovrebbe andare questo. Wow. Non voglio farla strana. Ti prego, dimmi che l'ho preso. Aha! Bene. Questa qui sarà la nostra farm di pecore, ragazzi. E qua potremmo anche fare in realtà la porta con la rossiccia in modo da fare il naso, ma secondo me è un ingresso laterale più carino, eh. Voglio dirvi la verità, mi sembra un'idea migliore. Ora facciamo così. Questi li possiamo anche riprendere perché più spazio ho qui dentro meglio è, visto che ci devo far stare una farm di pecore. E poi da qua in poi iniziamo ad alzare tutto. Ok. Pecora fatta. Dove le posso mettere le torce? Sugli occhi? Yeah. E facciamo una porta magari qua doppia. Pulito. Qui ci mettiamo delle scale e qua togliamo questo strato qui sotto e lo mettiamo così. Definitiva così. Abbiamo avuto un attimo di dover pensare bene a come farla. Per quanto riguarda la farm, qui dentro temo che non ci sia una farm di string, ma ci sta una farm di pecore. La farm di pecore si fa utilizzando un sistema di redstone particolare che praticamente manda il tick quando la pecora si mangia l'erba. È un po' complicato, ma si può fare. Qui dentro onestamente per tenere la linea toglierei il ghiaccio e metterei la lana. Già portare le pecore qui dentro è un passo avanti. Le possiamo anche far riprodurre come non mai. Abbiamo del grano, non abbiamo del grano, ma so dove reperire del grano. Dove sta il grano? Eccolo qua. Mi ricordavo di queste balle di fieno ottenute da tantissimo tempo. Mettiamo qui le balle di fieno, prendiamoci il grano che utilizzeremo anche per far riprodurre le pecore in generale. Ehi, non vi piace più? Ah, eccole qua. Andiamo. Guardale che stanno entrando, guardale, guardale, guardale. E se magari non saltate a turno, vi prego, dai, ce la potete fare? Siete due pecore con due teste unite? Ok. Oh, lì. Sento già meglio, ragazzi, ve lo giuro. Bene, iniziamo a farle riprodurre in modo da averne un pochettino qui dentro. Ehi, è nato un figlio grigio. È uno bianco. Bello. Dovrei anche portarmi dietro una bellissima forbicina, perché con la forbice posso iniziare anche a prendere la lana. Allora, innanzitutto devo capire dove mettergli il cappello di Natale a questa pecorellina. Mi fa molto ridere questa cosa, però potrebbe funzionare, eh? Sì, provo a fare una roba di questo tipo con la concrete rossa. Vediamo. Funziona! Che carino! Dove immaginarmi il cappello di Natale, qua lo farei anche alto due, così. Sta riuscendo molto bene il cappellino della nostra pecora. Vi voglio dare un assaggio del Colosseo. Facciamo la parte sopra, perché dobbiamo mettere ancora, non so come si chiamano, tipo delle aste sopra, ma adesso lo vedete. Non vi voglio spoilerare troppo, eh? Devo stare anche molto basso con la visuale. E poi voglio metterci la mia firma, ovviamente. Sarà la cosa finale. Sono gli spuntoni del Colosseo, che poi in realtà sopra ci dovrebbero essere le bandiere, in teoria, ma mi rifiuto di farmare così tanta lana per mettere due di lana per ciascuno di questi. Immaginatevi, che follia. Non vedo l'ora di vedere il risultato finale, ragazzuoli. Tutte quelle ore notturne passate a piazzare blocchettini, a farci le nostre chiacchierate. Forse è stata la costruzione più deep di tutte, da questo punto di vista. Perché anche quando costrui cose più grandi, più difficili, magari non siamo stati così tanto a parlare o a trattare tematiche così importanti come quelle che abbiamo fatto durante il Colosseo. Bello. Ragazzi, ho preso il ritmo. Vi giuro, se c'è una cosa difficile da fare, è piazzare una fence sopra l'altra. Però ho preso il ritmo. Tra l'altro è il timing che devi prendere. Perché mentre scendi, devi schiacciare nel punto giusto. E ragazzi, adesso ho preso il ritmo folle. Se non mi basta la legna, Greta Thunberg non sarà contenta come l'altra volta. L'altra volta non era decisamente contenta, Greta Thunberg, eh? L'episodio che abbiamo sfondato tutto il ghiacciaio. Innanzitutto andiamo a dormire perché la casetta fatta di terra l'ho tenuta, ragazzi. Ma questa casetta fatta di terra la dovremo togliere. Perché poi voglio fare tutta una bella zona, giardinetti, collegamenti. Ragazzi, ho appena realizzato che le mie bellissime pecore non avevano l'erba qua sotto. Quindi gliela mettiamo. Io spero, vivamente, di riuscire a cavarmela in questo modo. E che non serva la luce. Perché se serve la luce è un casino. O così. Ma anteriore non serve la luce per far espandere l'erbetta. Ma poi queste pecore sono stupide. Cioè, ci avete qua tutta st'erba e state sull'unico blocco di neve. Cosa? Oh no, ok. Magari stanno facendo delle cose, non dovrei guardarle. Allora, vediamo se ho un po' di grano da parte giù qui. Mi sa che l'ho già riportato su. Eccolo qua. Ma perché sprecare il colorante rosso quando posso colorare tutte le pecore di rosso? E quando le faccio accoppiare a random, perché giustamente anche nella vita reale funziona così, colore una pecora di rosso, colore un'altra pecora di rosso, bam! Tipo apple pen, pineapple pen, bam! Pecora rossa. Mi piace. Perché stanno tutte lì nell'angolo? Questo è il sistema di pathfinding di Minecraft che non hanno mai aggiornato. Il pathfinding su Minecraft è una cosa davvero particolare, ragazzi. Praticamente quando tu hai un'entità, che è sia un mob attivo che passivo, i mob attivi sarebbero gli zombie, i mob passivi sono le pecore, tendono a dei blocchi. Piegai questa cosa quando ho ricostruito nel Nether quella bellissima farm di carne. Tra l'altro ci devo andare a breve perché sto finendo la carne. Gli oglin, per esempio, vengono attratti da quello che è la verruca del fungo, che è un blocco... adesso si chiama Netherwort, se non sbaglio. E quindi tu puoi costruire delle farm perché loro quando spawnano si muoveranno sicuramente nella direzione delle Netherwort e però cadranno poi nella lava e muoiono. Mi sa che queste pecore vengono in qualche modo attratte dal bioma... questo qui. Vorrebbero andare nel bioma delle ciliegie o vorrebbero andare qui che c'è il verde qui sopra. Non lo so. Fatto sta che se ne stanno nell'angolo le oste maledette. Non si mangiano l'erbetta e poi non diventano rosse o non li ricresce il pelo. Qui dovrei fare anche il magheggio della slab perché ho paura che poi questa erbetta non si diffonda nel modo giusto. Tutti quelli che mi chiedono costruzioni Napoli eccetera eccetera eccetera. Ragazzi, io nel mio vecchio mondo ho costruito il Titanic. Il Titanic con i colori del Napoli. E prima del Titanic c'era una mob farm gigante con i colori del Napoli. Non voglio mai più sentire parlare di Napoli in tutta la mia vita. Guardate qua. Dove l'avete mai visto uno che costruisce il Titanic con i colori del Napoli? Il Napolitanic. Però adesso ho il problema che tutta questa lana che ho già preso è bianca. Quindi la devo comunque trasformare in rossa in qualche modo. Eh sì. Sto avendo l'illuminazione. Sto avendo un'illuminazione molto grande ragazzi. Mi servono un sacco di ossa. Non so dove reperire ma le reperirò. In teoria si può fare una farm di colorante rosso molto veloce che utilizza il buon meal. E basta. Se ho questo ricordo vivido e soprattutto funzionale. Questi. Eccoli qua. In teoria. Mamma mia ragazzi. Che soddisfazione. E con queste mi faccio ben 80 coloranti rossi. Ci siamo fatti un po' di lana rossa. Ora ho bisogno di prendere altro buon meal. In modo da fare altra lana rossa. Poi proviamo a vedere se basta per finire il colosseo. Se non basta finiamo la farm di pecore. Ma comunque la farm di pecore la facciamo perché la lana mi servirà. Ma ho in mente poi una cosa davvero folle ragazzi. Non so se avete presente la farm di pecore che ho fatto nello scorso mondo. Voglio fare una farm di pecore ancora più avanzata. Dove c'è un sorting system che prende tutte le lane, le divide per colori e te le fa trovare in varie casse. Tipo magari ci sono 4 doppie casse con lana rossa. 4 doppie casse con lana nera e così via. E funziona solo se sei lì vicino. Comunque è davvero davvero bello questo Rayquaza. Cioè è proprio nella posizione giusta. L'unica cosa a tornare indietro avrei fatto la pagoda sotto. Immaginate che bella la pagoda. È proprio sotto a Rayquaza. Damn. Ma anche così non è male. Con i suoi tre blocchettini di diamanti qui. E dovrei anche pensare ad una farm di ossa. Dovrei davvero mettermi lì e dire ok faccio tutte le farm che mi servono. Farm di sabbia, farm di ossa, farm di canne da zucchero, farm di pecore e così via. In modo che ho sempre tutti i blocchi a disposizione e poi semplicemente una questione di, non lo so, costruire. Porca vacca se ne ho di ossa. 59 bone block. Ok penso che il bone meal non sia più un problema. Andiamo a milcare l'ultimo colorante rosso che mi serve. Coloriamo la lana e si va. Poi ragazzi posso farvi una domanda un po' strana che ho fatto anche l'altro giorno. Qual è il regalo di Natale più strano e se non avete un regalo di Natale strano più costoso che avete chiesto? Ok ragazzi è arrivato il momento. Devo trovare un modo di posizionare velocemente questi blocchettini. Secondo me la cosa migliore che posso fare è metterne due, tre e poi concludere così. Quindi uno, due. Bene. Uno, due, tre e uno, due. Devo riempire tutto attorno. E poi oltre che tutto attorno, lì sotto, dove abbiamo utilizzato la sea lantern per illuminare, che almeno si blenda abbastanza bene con la sabbia. Dobbiamo mettere su questi bastoncini qui le nostre bandierine. Non penso proprio basti questa quantità di lana ma ci provo. Cavolo qui non so se farlo da questa parte o da questa parte. No, forse di qui è meglio. Siamo quasi arrivati a metà delle nostre bandiere nella parte sotto. Fortunatamente qui non si usano tanti materiali perché sono semplicemente due per bandierina. Però immaginate dover mettere tutte le colonne qua sopra. Ok ragazzi, abbiamo messo le prime bandiere. Ora dobbiamo continuare le nostre colonnine rosse. E poi alla fine facciamo anche più o meno il calcolo di quanti blocchi ho utilizzato per fare il Colosseo. Secondo me si potrebbe arrivare nel range dei... non lo so. Madre mia, se penso a tutti i blocchi che ho piazzato. Allora, ognuna di queste colonne rosse è fatta da sette blocchi di lana. Non mi basterà mai la lana che ho io, purtroppo. Ragazzi, questo Colosseo lo devo davvero ai notturni perché senza i notturni che mi faceva un compagno non l'avrei mai finito. Anche perché dopo un po', vi dirò la verità, la mia motivazione per farlo è scesa tantissimo. Infatti, come avete visto, non l'ho finito quando lo dovevo finire, ci ho messo un po' di più, ma sono contento di essere arrivato dove sono arrivato con questo Colosseo. Ragazzi, si può già dare una piccola occhiata a quello che è il Colosseo. La cosa di cui vado più fiero è che sono riuscito ad illuminarlo, ma sono sicuro che ho toppato da qualche parte. Probabilmente spawneranno degli zombie qua e là. Ma in generale, it's going good. Manca poco. Ragazzi, sto realizzando soltanto ora che anche se facessi la farm di pecore purtroppo non riesco a fare la lana necessaria per finire il Colosseo perché dovrei stare a FK troppo tempo. Dove ho messo un sacco di lana nel mio mondo? Ragazzi, guardate qua che belle le pecorelle rosse. Allora, adesso le facciamo accoppiare e poi facciamo la farm di stringhe. Effettivamente con la farm di stringhe si può fare. Andiamo a far accoppiare le nostre pecorelle. Yo, what's up? Guarda che carine. E poi giucciamo via tutta la lana che possiamo. Ok, ora nel mio inventario voglio soltanto vedere stringhe, lana, colorante rosso e lana rossa e delle shears. Allora, lascerei la farm di pecore così com'è, ora come ora, anche perché poi la voglio far seria di pecore e magari la faccio dentro al muro fatta come ve la volevo dire. Però voglio fare la farm di stringhe, anche temporanea. Allora, prendiamo dei blocchi a caso che possono essere benissimo di brown terracotta o di terra. Ho bisogno di vedere come si farmano i tripwire hooks. Si fanno con il legno, uno stick e un pezzo di ferro. Easy. Ho bisogno dei secchi d'acqua, quindi mi serve o dei secchi o del ferro. La legna l'abbiamo. Ho bisogno delle stringhe. Ho bisogno una botola che posso fare con il legno e ho bisogno delle casse che si possono fare con il legno. Ho bisogno degli hopper che si fanno con il ferro, ma gli hopper li dovrei già avere da qualche parte. Ora non ricordo bene dove. Bene. Craftiamo due tripwire hooks. Craftiamoci le casse. Me ne servono... perché sto craftando le casse con le casse? Me ne servono... otto. Allora ragazzuoli, dobbiamo fare un 3x4 e mettiamo le casse così. Perfetto. Poi dobbiamo attaccare qui degli hopper. Avrei bisogno del vetro o delle slab. Realisticamente il vetro sarebbe meglio, ma anche le slab it's fine. Questo perché se io metto le slab qui sopra... Esatto. Le casse si possono aprire e posso anche posizionare qua. Era così giusto raga? Non voglio dire cavolate. No, era più indietro. Era più grande. Facciamo le due L laterali qua vicino agli hopper e poi, se non sbaglio, dovrebbe essere così. Poi si mettono dei blocchi temporanei qui. Questi li spacchiamo. Craftiamo al volo un paio di queste. Togliamo questi due blocchi qua. Poi mettiamo dell'acqua dentro. Così. Perfetto. Benissimo. Poi prendiamo le stringhe e tecnicamente se metto un triple arrow qui, un triple arrow qui, una leva, prendo la forbice e metto in questo modo qui. Ho sbagliato qualcosa? Cosa ho sbagliato? Allora ragazzi, è un po' confusionaria questa farm. Sono ritornato a questa posizione. Abbastanza semplice. Tecnicamente dovrei mettere qui le botole. Allora, devo waterloggare le botole mettendoci l'acqua in questo modo qui. Perfetto. E poi le devo chiudere utilizzando la leva. Poi devo togliere questi due qui. Poi metto due stringhe. Una qua e una qua. Devo prendere una stringa e attivare questa. Ah. No. No. Deve andare verso ovest davvero allora. Facciamo tutto la capo ragazzi. Tanto non ho capito come si fa. L'importante è quello. Easy. Momento della verità. Tesa ragazzi. Shear. Ah. Funziona. Guarda il bro che è arrivato già a rubarmi le mie stringhe. Bene. Abbiamo fatto una farm di lana che probabilmente è mille volte più efficiente di quella di pecore. Però mi va bene lo stesso. Bene. Stiamo qui un po' alla farm. Si è fatta notte. A furia di fare stringhe e lana. Andiamo a letto e finiamo il colosseo ragazzi. Siete pronti? Stiamo per mettere gli ultimi blocchi del colosseo. Sicuro che dovrò mettere anche qualche luce però poi alla luce ci pensiamo. Uno, due. Uno, due, tre. Ok. Uff. Ci siamo ragazzi. Ci siamo. Ultimi blocchi. Perché queste colonne rosse? Perché è il colosseo vecchio stile. È il vero colosseo. Ma ragazzi ci tengo a precisare che questo colosseo, questo che l'ho quasi finito, è il colosseo originale. Come è stato costruito. Infatti dovrei anche fare un'ultima cosa che vi avevo promesso ovvero di fare dei sistemi che fanno uscire l'acqua lì per fare le battaglie navali proprio come una volta. Però me lo devo studiare perché è difficile allagare tutto. Ne ho provato uno con i dispenser ma l'acqua arriva lì. E c'è tipo una zona qua senza acqua. E devo trovare un modo di farla uscire nel centro anche. In modo che sia omogenea. Uff. Manca pochissimo ragazzi. Ragazzi meno due. Meno uno. Ci siamo. Ci siamo. L'abbiamo finito. Holy. Ragazzuoli abbiamo finito il colosseo. Assurdo. Bisogna fargli il tocco finale. Il tocco alla lollo lacustre. Siete pronti? Allora iniziamo ad andare verso l'alto con gli scaffolding. Andiamo su con gli scaffolding. Non so bene dove mi portino. Spero mi portino nel posto giusto e ad altezza giusta. Ok ci siamo. Anche un po' più in basso andava bene. Decisamente. Devo svolazzare qua. E voglio fare la faccia di un creeper. Ragazzi. Questo è l'ultimo blocco ufficiale del nostro colosseo. E ovviamente è sulla faccia del creeper. È il mio marchio di fabbrica diciamo nelle costruzioni grandi. Andiamo a togliere gli scaffolding che sono bruttini. È impossibile che l'abbia fatto in survival. Bro. Guardati qualche live. Non dico tutte le live. Guardati gli estratti su youtube. Non è così difficile come sembra. Ragazzi. Abbiamo finito il colosseo. Guardate qua. Con il tocco di classe alla Minecraft style. E che dire. Colosseo finito ci mettiamo sul trono. Yes sir. Mentre fuori piove. Anche dentro gli interni non sono venuti male. Non andrò a mentirvi. Abbiamo un bicchiere d'acqua. Oppure come bere due litri d'acqua al giorno. Ragazzi. Dovete bere. Porca vacca. Voi non bevete abbastanza. Almeno due litri d'acqua al giorno per la vostra salute. E non mi pagano per dirvelo. Ve lo dico per il vostro bene. Abbiamo una pecorella da finire. E abbiamo la lana per finirla. A sto punto farei il cappellino fatto con la lana. Facciamo i biomi. Questi due qua. Considererei il lavoro finito. Ok. Rifacciamo questa zona qui con la lana. Non voglio farlo troppo piramide. Però mi sa che mi conviene fare così. Così. Poi così. E a sto punto lo farei che tende verso di qua. E lì metterei il pompon bianco. Vediamo se è venuto bene. Sì. Ci sta. Pecorella natalizia fatta. Nel complesso ci viene fuori questa cosa che non è per niente male. Anzi. Molto bella. Molto caruccia. E ragazzi per quanto riguarda il colosseo io vi sparo una cifra. Secondo me abbiamo utilizzato più o meno guardando anche tutti i blocchi che ho piazzato le ore che siamo stati a farlo. Dai 600 ai 700 mila blocchi più verso i 700 mila. 650-700 mila. Pensavo ad una costruzione da milioni di blocchi ma alla fine è venuto fuori un qualcosa da meno ma non da poco perché è una cosa veramente interessante. E abbiamo spaccato. C'è poco da dire. Poi ve lo farò vedere meglio nel tour del mondo che sarà comunque tra poco anche perché ci stiamo avvicinando al giorno mille. Mi piacerebbe fare un tour per il giorno mille o per l'episodio 50 su youtube ma secondo me cadranno allo stesso modo. Chiudiamo qui. Perfetto. Ora devo prendere del ghiaccio blu e devo prendere della terra. Mi serve terra normale. Puzzle. Poi mi serve packed ice. Il ghiaccio blu l'avevamo craftato l'altra volta. Mi serve della neve. Poi mi serve dell'andesite e della cobblestone e mi servono le bacche che abbiamo preso l'altra volta per le volpi perché dobbiamo fare adesso qui i due habitat. Qui degli orsi polari e qui delle volpi. Partiamo da quello delle volpi che mi sembra forse quello più complicato in realtà. Metterei una zona nell'angolo che può essere grande più o meno così dove farei partire del podzol. Sul podzol posso mettere le bacche. Spettacolo. E farei una cosa del genere con le bacche. Poi lo allungherei fuori di ramato in questo modo come se appunto la neve avesse sovrastato quasi tutto tranne una zona nell'angolino qua. La zona nell'angolino l'abbiamo fatta. Poi per rendere il tutto più bello metterei dell'andesite e della cobblestone e anche del ghiaccio. Perché no? Ghiaccio pensavo un qualcosa di questo tipo. Anzi partiamo dal blue ice. Tipo delle cosine così di ghiaccio. Ci stanno anche bene. E lo stesso volevo fare con l'andesite e la cobblestone. Ok. Potrebbe fare anche una piccola tettoia qua. Fatta proprio così. Molto grezza però. Perfetto. Così si vanno a riparare lì sotto e poi metterei ancora della terra. Che alla fine ci sta bene. Qui magari. Poi terra e podzol non è terra. Simil terra. Spero che questa cosa non le faccia saltare dagli orsi. In caso alzerò semplicemente questo. Bene. E la zona per le volpi l'abbiamo fatta. Qui vorrei fare con un pattern del tutto casuale una zona con l'acqua. Che vada a chiudersi qui. Mi serve dell'acqua però. In cero ci sta troppo bene il blue ice sott'acqua. Quindi metterei il blue ice e ci metterei poi anche delle sea lantern. Tipo una qua e le altre in giro. Perfetto. Acqua qui. Acqua qui. Prendiamo l'acqua dal mezzo e iniziamo a fare fonti d'acqua infinite in giro. Mi sembra abbastanza piatta l'acqua. E poi facciamo una mini struttura di ghiaccio particolare. Che bello il ghiaccio lucido così. Senza troppo criterio ma comunque mi consente di lasciare spazio poi agli orsi polari. Ci può anche stare mischiare un po' così. Bene. Farei anche un po' di pattern a terra. Anziché metterci la terra ci metterei l'andesite. Bene ragazzi. Abbiamo fatto il bioma per gli orsi polari. Abbiamo fatto il bioma per le nostre bellissime volpi artiche. Adesso le uniche cose che mancano in questo villaggio sono sistemare il nostro bellissimo albero di Natale. Mettere delle cosine qui nella parte natalizia. Cosine si intende la neve. Questa neve tipo che cade la dobbiamo fare tutta intorno. È noiosa come cosa. Magari ve la risparmio il più possibile. Finire sicuramente la fabbrica segreta di giocattoli. E poi dentro al villaggio voglio fare un omino di pan di zenzero gigante per ricordarci di una bella cosa. Canditi a gogo. Una casettina magari. Cos'altro si potrebbe fare? Ah sì è vero. Poi dobbiamo fare l'arena con le slitte che ci occuperà tutta questa zona fino a più o meno qua l'albero di Natale. E voglio appunto che esca dalla grotta. Come se Babbo Natale fosse stato nascosto in questa grotta qua e c'è tutto il suo rifugio. Bastoncini a gogo. Il treno Polar Express. Damn. Potrebbe fare che da questa parete esce il treno. Tipo parete spaccata stile questa ed esce il treno. Mi piace. Potremmo fare degli elfetti. Potrei fare un mini villaggio dei villager con dei villager che vanno in giro stile elfi. Bello bello. Tra l'altro a Natale me lo ricordo dall'anno scorso dovrebbero cambiare delle cose su Minecraft. Tipo le ceste diventano natalizie e così via. È clean. Oh però ragazzi sta venendo bene. Anche visto dall'alto poi tenete conto che qui ci sarà un mega strato di vetro quindi vedere tutto sarà particolare. Sta venendo davvero bene. Anche il bioma visto dall'alto carino. La casa in pan di zenzero bellissima. La grotta è carina. Qua si vede il cappellino di Natale. L'albero di Natale. È clean. È clean. Dai ragazzi. Direi che per quanto riguarda il villaggio Natalizio oggi abbiamo fatto quello che dovevamo e soprattutto per quanto riguarda il Colosseo. Abbiamo spaccato eh. Lacustri io vi ringrazio tantissimo della visione. Come al solito se volete vedere altri miei due video io ve li lascio qui e noi ci vediamo al prossimo. Let's go!